Nessuno scontro con l'amministrazione comunale. Noi abbiamo evidenziato quelle che sono le problematiche di gestione del depuratore di San Martino, anche sulla base dei riscontri dell'Arta, e chiediamo semplicemente che si facciano quei lavori per rendere l'aria respirabile e non compromettere la salute pubblica. Stanno lavorando gli uffici e già faremo tutto ciò che è dovuto per andare avanti e saldare queste situazioni che sono pregresse. Noi siamo comunque in una situazione finanziaria difficoltosa che abbiamo ereditato dal passato e stiamo cercando di normalizzare tutto ciò che abbiamo trovato. Le soluzioni sono state indicate dall'Arta, sono soluzioni tecniche già conosciute dal consorzio, per cui loro dovrebbero intervenire secondo quelle che sono tutte le prescrizioni dell'Arta che ha fatto una corposa relazione adesso, ma anche in passato, cioè nel mese di febbraio. La non approvazione del rendiconto dipende da altri fattori legati a teatro e servizi, a tutte le vicende che già sono note e conosciute sui ritardi dovuti a teatro e servizi, ma non per colpa del Comune ma degli altri amministratori.